Oggi, per dare seguito alle tante segnalazioni di cittadini pervenuteci in redazione, ci occupiamo nuovamente della via Porta di Mare, la strada di Contrada San Biagio, che collega Favara con la strada statale 640. Nell'arteria, su cui in un tratto curvilineo compreso tra gli ingressi del ristorante Gardenia e della zona forestale, presenta un restringimento della carreggiata causata da una frana, Noi di Sicilia TV ve ne avevamo parlato mesi fa in due servizi giornalistici trasmessi rispettivamente il 12 novembre e 29 gennaio scorsi. Il caso, allora, ci venne segnalato sempre dai cittadini che, oltre a denunciare la pericolosità del sito, lamentavano anche l'assenza di segnaletica di pericolo. Infatti, la zona interessata dalla frana non è preceduta da nessun segnale che evidenzia lo stato di pericolosità di entrambe le direzioni di marcia. Inoltre, il cedimento non è evidenziato con nessun tipo di segnaletica visibile durante le ore notturne. A distanza di pochi giorni dall'ultimo servizio trasmesso a fine gennaio, l'ex sindaco di Favara, Domenico Russello, aveva dichiarato che, nonostante la strada fosse di competenza provinciale, il Comune poteva intervenire con i fondi di compensazione ANAS. Sulla competenza territoriale non c'è ancora chiarezza. Dal Comune di Favara dicono essere dell'ente provincia. Da Grigento, invece, affidano la paternità della strada alla città dell'Agnello Pasquale. Una domanda sorge spontanea. Ma di chi è la reale competenza? Burocrazia a parte, una nostra troupe, 70 giorni dopo, si è recata nuovamente sul posto. Non solo il problema sussiste. Nostro malgrado, dobbiamo registrare che le lesioni presenti sul manto stradale, con il trascorrere dei giorni, si sono maggiormente evidenziate. Chiudiamo questo servizio alla stessa maniera del precedente. Per la risoluzione di un problema bisogna per forza attendere che accada l'irreparabile, a chi di competenza, le dovute risposte.